Emergenza coronavirus, record di tamponi, oltre 1400 per 112 positivi, 20 non lucani, ci sono anche 10 guariti, ma restano 4 i ricoveri in terapia intensiva e a Calciano un positivo denunciato per aver violato l'isolamento domiciliare. Che la Basilicata sia ormai nel pieno della seconda ondata epidemica emerge chiaramente anche dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, nella settimana 14-20 ottobre contagi aumentati del 23,2%. Indotto Eni, dopo lo sciopero di ieri, prosegue la protesta dei lavoratori delle officine da Andrea, sentiremo le voci dei lavoratori. Prevenzione del cancro al seno, iniziative fino a fine mese in Basilicata, illuminato di rosa ieri sera anche il comune di Potenza, dove l'associazione Vivere Donna Ollus è stata protagonista di una manifestazione simbolica. Calcio a 5, big match questa sera a Matera per la terza giornata di Serie A, il CMB ospita la blasonata a quest'apone di Capitan Mammarella, con i ritorni degli ex Scarpitti e Fusari. E come ogni venerdì, dopo il Tg con l'esperto meteo Gaetano Brindisi, vedremo la tendenza delle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Buon poveriggio e buon venerdì a tutti voi e ben ritrovati in studio per l'appuntamento con le notizie dalla Basilicata. Dunque, sempre più contagi da Covid in Basilicata. Oggi un'altra novantina di casi tra i Lucani su 1.434 test processati. Quarite anche 10 persone, ma ci sono nuovi ricoveri in ospedale. Allora, il consueto punto con Michelangelo Russo. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati oltre 100 casi, 112 per la precisione, 23 dei quali diagnosticati fuori regione, 1.434 i tamponi processati. È nei due capoluoghi che si concentra il numero più alto di positività nella giornata odierna. A Matera ce ne sono 15, a Potenza 13 in più. Oggi udienze penali e civili rinviate proprio al Tribunale nella città dei Sassi su provvedimento del Presidente del Tribunale Giorgio Pica. Nel Palazzo di Giustizia sono infatti in corso delle attività di sanificazione. A Potenza invece, dopo un caso di coronavirus, presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, è stata disposta la sanificazione notturna del Palazzo di Giustizia, dove però oggi le attività proseguono. A Irsina individuati 10 cittadini positivi tra i contatti stretti dei pazienti già segnalati nei giorni scorsi, una sessantina in tutto i test eseguiti. Disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di oggi. 5 casi a Montescagliose e Moliterno, nel comune Materano 4 casi di rientro da una festa privata in Puglia. Il sindaco intanto ha lavoro per chiudere l'abbazia di San Michele nel weekend, a causa il non rispetto delle regole. Nel comune Valdagrino 5 casi in due nuclei familiari e ci sono anche degli alunni, quindi sospese le attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di primo grado e delle due classi seconde della scuola primaria, fino al 29 ottobre. Anche a Davigliano non si arresta la scia di contagi, oggi ce ne sono altri cinque. Altrettanti ne sono stati contati anche a Genzano, sempre in ambito domiciliare. Più giù nell'area sud è Lauria, fa registrare cinque casi. A Palazzo San Gervasio positivi tre cittadini, il sindaco ha anche disposto la chiusura del plesso Camillo Delrico fino a fine mese. Due casi legati tra di loro invece a Sant'Arcangelo. Altro caso anche a Bernalda, dove domani saranno sottoposti a tampone gli alunni entrati in contatto con la prof risultata positiva. Dieci guariti di oggi, quattro a Sant'Arcangelo, una a Datella, Brienza, Tramutola, Marsico Vetre, Sasso di Castalda e Marsico Nuovo. Infine la situazione negli ospedali, cresce di sei unità il numero dei pazienti. Ne sono 58, sempre quattro invece quelli monitorati nelle terapie intensive. Era uscito di casa, malgrado fosse sottoposto a isolamento domiciliare poiché positivo al coronavirus, ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri della compagnia di Tricarico. Si tratta di un 63enne di Calciano che due sere fa è stato sorpreso per le vie del paese dai carabinieri del posto nel corso dell'attività di controllo sul rispetto delle misure di contenimento da Covid-19. Per lui, oltre all'intimazione di non uscire di casa fino all'autorizzazione dell'autorità sanitaria, è scattata anche una denuncia all'autorità giudiziaria. E che la Basilicata sia ormai nel pieno della seconda ondata epidemica, emerge chiaramente anche dall'ultimo report della Fondazione Gimbe. Nella settimana dal 14 al 20 ottobre i contagi sono aumentati del 23,2%. Per tutti gli altri numeri della pandemia sentiamo Fabrizio Di Vito. Tutti gli indicatori peggiorano di settimana in settimana, ma se paragonata ad altre realtà, la situazione della Basilicata, agevolata dal fattore demografico, resta meno critica. Dall'ultimo report della Fondazione Gimbe relativo al periodo 14-20 ottobre, emerge come sul fronte dell'andamento dei contagi, la Basilicata faccia registrare una preoccupante impennata rispetto alla rilevazione precedente. I casi sono aumentati del 23,2% in una settimana, portando a 127 i casi positivi ogni 100.000 abitanti. In attesa di raggiungere i 3.000 tamponi al giorno promessi qualche giorno fa dal governatore Bardi, il cambio di passo sul fronte ai tamponi è già fotografato dai numeri. Con 1.181 casi testati ogni 100.000 abitanti, infatti la nostra è tra le regioni che processano più testi in relazione alla popolazione. Solo Lazio, Molise, Toscana, Umbria, la provincia autonoma di Bolzano e la Campania riescono a fare meglio. Il campanello d'allarme invece arriva dal rapporto tra nuovi positivi e casi testati. La percentuale lucana sale al 3,7%, nel report precedente era al 2,3%, ma è bene sottolineare come si tratti del valore più basso a livello nazionale insieme a quello della Calabria, a fronte di una media nazionale che è schizzata addirittura al 10,9%. Per quanto riguarda invece la pressione sul sistema sanitario e sugli ospedali, assistiamo ad un netto incremento dei ricoveri anche in Basilicata, ma anche in questo caso, con 9,1 ricoverati con sintomi ogni 100.000 abitanti, la nostra regione si piazza nettamente al di sotto della media nazionale, arrivata a quota 14. A un mese esatto dall'ultimo episodio di sciacallaggio, questa mattina alla sede del CUP di via Matteotti a Matera, non è stato possibile far entrare gli operatori a causa di un atto di vandalismo. I gnoti durante la notte hanno tentato di dar fuoco alla struttura. L'asma ha segnalato l'accaduta alla polizia, ha avvisato i vigili del fuoco, perché anche dall'esterno si è avvertito un forte odore di benzina. La mancata operatività del CUP costringerà ora i cittadini a rivolgersi ad altri centri operativi con inevitabili disagi, tra cui l'allungamento delle file. La sede CUP di via Matteotti rimarrà chiusa fino a quando non verrà individuato l'autore o gli autori di tali episodi, le cui cause, scrive in una nota l'asma, sono incomprensibili. Passiamo alle vertenze lavorative, perché prosegue la protesta delle maestranze delle officine d'Andrea davanti al Cova di Vigiano. Ieri lo sciopero di otto ore. Senza avanzamenti nelle prossime ore, le sigle sindacali FIM, FIOM e WILM fanno sapere che metteranno in campo ulteriori azioni estese a tutto l'indotto Eni. Ma sentiamo dalla viva voce dei protagonisti le ragioni di questa protesta. Stiamo manifestando oggi insieme a tutti gli altri lavoratori indotto Eni, in quanto noi dal mese di marzo tutti i lavoratori siamo in cassa integrazione. All'inizio l'Eni ha comunicato alla nostra azienda che per una questione del protocollo sanitario previsto a livello nazionale dovevamo dare la disponibilità alle turnazioni, su due turnazioni, sia alle 14 e dalle 14 al 22. Insieme a tutti i lavoratori abbiamo accettato questa situazione nella speranza che si azzerasse la cassa integrazione e quindi che tutti i lavoratori riprendessero il proprio posto di lavoro. Da maggio tutto questo non è successo perché praticamente stiamo lavorando meno del 50% di lavoratori. Quindi su 26 unità che lavoravamo a marzo prima dell'emergenza sanitaria, quindi prima del Covid-19, stiamo lavorando da maggio 10-11 maestranze lavoratori. Non capiamo il motivo per cui se tutti gli altri lavoratori dell'altra azienda, la maggior parte, hanno ripreso anche se loro su due turnazioni il proprio posto di lavoro, solo noi in officina d'Andrea stiamo lavorando ancora al 50%. Allora due sono le cose. O queste attività vengono svolte da altre aziende e quindi con altro personale che magari forse vengono anche da fuori regione oppure lei ne ha tagliato le attività che venivano eseguite e che devono essere effettuate sull'impianto per una questione di sicurezza. È cosa più grave perché se fosse così significa che non c'è la sicurezza abbastanza nell'impianto. E oggi parte anche lo sciopero di un mese del lavoro straordinario in e-distribuzione a seguito dello stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi. Le segreterie regionali di Filtem CGL, Flaei Cisle, Wiltek Will esprimono forte preoccupazione in merito alla posizione assunta dall'azienda sui temi oggetto dell'avvertenza rilevando la mancanza di una visione strategica sul piano industriale, organizzativo e soprattutto occupazionale. Non condivisa la volontà di cedere all'esterno attività come le manovre di esercizio. Programmate assemblee del personale dalla prossima settimana secondo le norme anti-covid rispettando la divisione in cellule delle unità operative sul territorio lucano. Adesso andiamo in pubblicità per alcuni istanti. A fra poco. SACAR Service. Vendita vetture, veicoli nuovi e usati. Ricambi originali e assistenza qualificata. Vieni a trovarci in tutta sicurezza nel nostro showroom dove troverai il mezzo perfetto per le tue esigenze dal più grande al più piccolo. SACAR Service. Competitività, competenza e cambiamento in via dell'edilizia a potenza. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Affidati a noi per il super bonus al 110% con sopralluogo gratuito. Ed inoltre ristrutturazioni chiave in mano, forniture pose in opera di infissi in PVC. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Via Siena 4 a Potenza. Telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. Ripartiamo dalla politica fumata nera per la presidenza del Consiglio Comunale di Matera. Per l'unica candidatura pervenuta, quella del pentastellato Antonio Materdomini, servivano 22 voti. I due terzi dei consiglieri comunali assegnati, ma i consiglieri di centrodestra guidati da Rocco Sassone, i consiglieri di centrosinistra con Giovanni Schiuma e Pasquale Doria di Matera Civica sono usciti dall'aula. Materdomini ha così ottenuto 18 voti sui 21 di maggioranza, 4 le schede bianche e una nulla. Tutto rinviato allora alla prossima seduta da programmare entro 10 giorni. Intanto lo ricordiamo prima del Consiglio e il sindaco Bernardi ha presentato la Giunta Comunale, un esecutivo di nove profili esperti esterni al Consiglio, sui quali ha avuto un peso determinante sia l'aspetto legato alla personale competenza, sia l'estrazione politica. Voltiamo pagina a ottobre, il mese della prevenzione del cancro al seno. Dal 26 al 31 di questo mese la facciata del Palazzo del Consiglio regionale si illuminerà di rosa per tenere alta l'attenzione sul tema. E' illuminato di rosa ieri sera anche il Comune di Potenza, dove l'associazione Vivere Donna Ollus è stata protagonista di una manifestazione simbolica. Ci racconta com'è andata Lucia Pietrafesa. Il Palazzo di Città è illuminato di rosa per ricordare l'importanza della prevenzione. Anche il Comune di Potenza ha aderito alla campagna di prevenzione del tumore al seno nastro rosa promossa da AIRC e l'ILT. Un messaggio importante lanciato con forza dalle associate di Vivere Donna Ollus in questo periodo in cui, a causa dell'emergenza Covid, controlli e visite hanno subito bruschi stop. Noi vogliamo lanciare un unico messaggio, la prevenzione. La prevenzione è importante per le patologie tumorali, e noi rappresentiamo le patologie tumorali femminili, e a volte salva la vita. Noi preghiamo tutti di fare prevenzione, di non sottovalutare gli screening. Preghiamo anche le istituzioni che in questo periodo particolare, purtroppo per ovvi motivi, stanno tralasciando questo discorso importante dello screening. Purtroppo il tumore non aspetta. C'è vero che c'è il Covid, è vero che abbiamo altre priorità, ma una paziente affetta da tumore non può vedersi trascurare nel suo percorso anche terapeutico. L'associazione Vivere Donna Ollus da anni aiuta le donne ad affrontare il difficile percorso della malattia. La nostra assolazione nasce circa 20 anni fa. Noi siamo sempre state di supporto alle donne operate di tumore al seno. Abbiamo aggiunto anche le patologie ginecologiche, tumore femminile sempre. Noi di solito siamo nei day hospital e andiamo anche nella senologia. Purtroppo da febbraio questo ci è stato impedito. Però abbiamo attivato tramite i social, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo una mail, abbiamo un telefono dell'associazione dove ci arrivano comunicazioni e contatti e noi cerchiamo in quello che possiamo di essere di supporto alle donne. Infatti nel periodo Covid, grazie anche all'aiuto e al sostegno dei medici del San Carlo, a cui va il nostro ringraziamento più grande, siamo riusciti a far fare anche i vari step per i protocolli che dovevano affrontare le signore e quindi a far fare le visite oncologiche e anche a volte a far fare l'intervento che purtroppo vedeva tutto bloccato a causa del Covid. In piazza Matteotti anche Mirella per testimoniare che la battaglia contro il cancro si può vincere. Sono anch'io una paziente oncologica, mi ammalo tre anni fa di cancro al seno, subisco l'intervento, faccio radioterapia e chemioterapia e durante il mio percorso in cui ho conosciuto il cancro ho messo nero su bianco quelle che sono le emozioni che una donna, ma soprattutto una mamma vive nel momento in cui teme per la propria vita e accanto a questo diario che è un diario di bordo ho accostato dei disegni che sono stati realizzati da me e che erano un modo semplice durante la malattia di spiegare a mia figlia, di raccontare in una maniera più fruibile per lei quello che stavo vivendo, le emozioni che provavo e soprattutto di lasciare a lei qualcosa, una sorta di vademecum per la vita nel caso in cui io non ce l'avessi fatta perché era questo il mio timore più grande, quello di non farcela. Nel suo libro c'era una volta un'ombra di segni e pensieri per ricordare l'importanza della prevenzione. L'ombra è l'ombra chiaramente del cancro, quella che attanaglia, che toglie il fiato ma è anche l'ombra che mi ha fatto riscoprire il valore della vita, del piacere, delle piccole cose e anche il piacere degli incontri. Questa vuole essere una mia testimonianza e vuole essere soprattutto qualcosa a disposizione di chi spero mai dovesse trovarsi nella mia situazione. Consiglio regionale è convocato alle 15.30 di martedì prossimo, 27 ottobre. Si partirà dal punto sull'emergenza epidemiologica e sui provvedimenti presi. L'Assemblea si occuperà poi di due disegni di legge, il primo sul bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 dell'ARPAB, il secondo sul rendiconto generale dell'APT. Seguirà anche la discussione sulle modalità di impiego delle risorse provenienti da Recovery Fund, richiesta dai consiglieri Polese, Cifarelli, Trerotola, Braia e Pittella. Altri punti all'ordine del giorno, l'elezione del difensore civico di Basilicata e del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza. La seduta si concluderà con il dibattito conseguente alla comunicazione del Presidente dell'Aggiunta regionale sull'esito delle trattative con le compagnie petrolifere. Pagare il parcheggio con una semplice applicazione sul cellulare è la novità che arriva a Potenza grazie a un accordo stipulato tra Acta Comune e la società Easy Park. Ce l'illustra Marariso. Stoppa la corsa al parchimetro grazie al sistema che consentirà ai cittadini e agli utenti di pagare la sosta del parcheggio a Potenza con il proprio telefono. Il Comune di Potenza con l'acta ha stipulato un accordo con la società Easy Park per la messa in funzione del sistema Mobile Payments. La funzionalità sta tutta nella facilità di pagamento. Basta installare l'applicazione sul proprio cellulare. Semplicemente si scarica l'app dall'Apple Store o dal Google Play Store si inserisce il numero di targa, il numero di cellulare, carta di credito o Paypal e si è pronti per pagare la sosta. Diciamo che la comodità principale è quella che si paga in qualche modo a consumo e comunque si può estendere la sosta direttamente dal cellulare o terminarla quando si ritorna in macchina e si è pronti ad andare via. Come costo del servizio noi applichiamo una nostra commissione sulla tariffa quindi non ci sono costi per il Comune e l'utente che paga una piccola transaction fee. Questa è la prima di tutta una serie di iniziative che svolgeremo sul versante della innovazione tecnologica e della modernizzazione dei servizi per contribuire al progetto che l'amministrazione comunale ha messo in campo di far diventare questa città sempre più smart, sempre più intelligente con servizi sempre più efficaci. Ma la novità riguarda anche le sanzioni. Anche le forze dell'ordine, i vigili urbani in particolar modo saranno dotati di un'app attraverso la quale con la semplice lettura della targa potranno verificare in tempo reale se la sosta è stata regolarmente pagata oppure no. Durante l'attività di controllo del territorio la stazione Carabinieri Forestale di Vigiano ha sequestrato un deposito sul suolo di rifiuti speciali, pericolosi e non per un totale di circa 20 metri cubi su una superficie di circa 120 metri quadrati in territorio di Tramutola in località Cozzi. Il materiale è abbandonato sul suolo e costituito da bidoni in lamiera contenenti solventi e vernici, metalli, legname, vetro, alcune cisterne di alluminio e plastica e rifiuti di apparecchiature elettriche. Alcune erano stati incendiati e l'autore del reato è stato deferito all'autorità giudiziaria per abbandono e combustione illecita di rifiuti. Dovranno stare lontano dagli stadi per un periodo compreso tra i 2 e gli 8 anni a seconda delle condotte contestate. Sono scattati 18 ulteriori d'aspo nei confronti dei supporter della Vulturio Nero accusati di aver preso parte all'agguato teso ai tifosi del Melfi lo scorso 19 gennaio, in seguito al quale aveva perso la vita il tifoso della Vultur Fabio Tucciariello investito dall'auto guidata da un supporter della squadra federiciana. Il provvedimento emesso dal questore di potenza è stato convalidato dal GIP di potenza su richiesta della procura del capoluogo. In due casi le misure applicate riguardano soggetti già destinatari di precedenti d'aspo, colpiti da provvedimento rispettivamente di 5 e 8 anni, sempre accompagnati dall'obbligo di firma. E passiamo al calcio a 5, big match questa sera a Matera per la terza giornata del campionato di Serie A. Il CMB ospita la blasonata Acqua e Sapone di Capitan Mammarella con i ritorni degli ex Scarpitti e Fusari. Sentiamo Luigi Santopietro. E' il grande giorno, quello in cui il CMB e l'ex Fausto Scarpitti incroceranno le armi dopo l'addio burrascoso del tecnico di questa estate. Questa sera alle 20 il signor Prestito Matera ospiterà nella tenso struttura di Veri Sanniti l'ambizioso Acqua e Sapone. Una partita importantissima con una delle più blasonate squadre di Serie A di quelle partite che avrebbero portato tantissimo pubblico se non ci fosse stata l'emergenza sanitaria. Ha maggior ragione per il ritorno del core ingrato. In ogni caso è ancora vivo il ricordo dello spettacolare 7 a 7 al pala saponata di Salandra lo scorso campionato con il CMB primo in classifica e con la squadra avversaria spaisata per più di un tempo nel fortino biancazzurro. La squadra lucana viene dall'importante ma faticosa vittoria casalinga sul CDM Genova di venerdì scorso mentre l'acqua e sapone ha riposato essendo stata rinviata data da destinarsi la partita casalinga con la Seibert Laniene. Tra le fila degli abruzzesi ci sarà anche l'ex Cristiano Fusari tra i grandi protagonisti della scorsa stagione con la maglia del CMB. E vi ricordo anche il secondo appuntamento di questa settimana con Vitamina C. Oggi pomeriggio alle 15.30 torneremo sul match Potenza Teramo e poi vedremo tutte le sintesi delle altre gare del sesto turno del girone C conclusosi ieri sera. Con Donato Valvano vedremo anche la Gold Collection e ci proietteremo sul prossimo turno col Potenza in campo già domani sera. L'appuntamento e ricordo andrà anche in replica alle 20.30 su questo canale e via streaming sulla nuova.net. Bene io mi fermo qui ma non andate via perché arrivano subito le attese e previsioni meteo del weekend a cura di Gaetano Brindisi. Grazie e buona visione. Salve ben ritrovati a tutti sulla nuova tv per l'appuntamento meteo. Stiamo vivendo delle giornate molto particolari a parte l'emergenza coronavirus. Stiamo vivendo giornate da piena estate si può dire a livello di configurazione barica. Naturalmente siamo a ottobre le giornate si sono accorciate di molto però le temperature sono insomma da fine agosto inizio settembre. Quasi tutta la regione in questo momento registra temperature superiore ai 20 gradi. In molte zone anche superiore ai 25 gradi. Quindi sono valori di 7, 8, anche 9 gradi al di sopra delle medie stagionali. Complice questa alta pressione che da un po' di giorni sta diciamo anche finalmente riportando il bel tempo sulla nostra regione dopo alcune settimane di maltempo, di piogge anche piuttosto forti. Queste ottobrate diciamo tipiche dell'Italia sono favorevoli anche in questo periodo dove ancora molti devono vendemmiare per raccogliere gli ultimi ortaggi dall'orto. Insomma e soprattutto anche per i funghi visto che negli ultimi giorni è scoppiata proprio la ricerca quasi spasmodica di funghi. Molti ricercatori micologici sono ormai nei boschi a cercare funghi che stanno uscendo davvero in abbondanza vista le temperature favorevoli alla crescita appunto dei funghi. Lasciamo l'aspetto micologico, vediamo invece per quanto riguarda il meteo cosa ci riserve all'occhio del satellite che dall'alto inquadra bene la situazione sull'Europa. Sulla parte destra del teleschermo notiamo l'alta pressione che sta ancora tenendo, vedete l'Italia centro-meridionale, tutta l'Europa dell'est fino alla Turchia sotto l'egita dell'alta pressione che ancora resiste mentre le perturbazioni spingono da ovest, sulla sinistra le nubi a forma di ciottoli, quelle bianche in alto a sinistra denotano la presenza di aria molto fredda che va a toccare proprio la Scozia, l'Irlanda, l'Inghilterra. Invece le perturbazioni che si cominciano a organizzare sul centro dell'Europa e sulla parte occidentale, quindi sulla penisola iberica, in procedimento di poi arrivare anche sulla parte dell'Italia meridionale seppur in modo attenuato. Vediamo lo zoom sulla nostra penisola, lo zoom che ci mostra appunto la perturbazione che avanza, sono i protomi della perturbazione, quelle nuve molto sottili, vedete sull'Italia centrale, stanno interessando adesso il Lazio, le Marche, ma sono nubi soprattutto a livello di cirrici, rostrati, insomma nubi di velatura. Per il resto le precipitazioni invece interessano il nord-ovest e i paesi confinanti con l'Italia, Svizzera, Francia dove sono in atto delle piogge piuttosto insistenti. Andiamo a vedere quindi con questa situazione abbiamo visto questa nuvolosità alta e sottile che avanza, quindi in serata, in tarda serata dovrebbe arrivare qualcosina anche da noi. Vediamo la grafica riferita alla giornata di oggi, nubi che arrivano in serata, quindi andranno a fuscare un pochino il cielo, nulla di più, non avremo cumule, avremo questi nubi piuttosto alte che veleranno un pochino la luna, nulla di più, non sono previste precipitazioni. Questo però permetterà alle temperature di alzarsi. Negli ultimi giorni c'è stata molta differenza tra giorno e notte, quindi escursione termica piuttosto elevata perché l'alta pressione spinge l'aria al suolo, l'aria al suolo più fredda, quindi più pesante, si deposita nelle vallate. Infatti sono 3-4 giorni che ritroviamo della Brina nelle prime mattinate, cosa che non si verifica invece in montagna dove c'è escursione termica, dove l'aria calda è più leggera e quindi va a toccare le cime più alte degli appennini. Vediamo la giornata di domani, giornata di domani all'insegna di un progressivo peggioramento. In mattinata avremo ancora queste nubi che via via da alte diventeranno medie, quindi in altezza intorno ai 4-5 mila metri si abbasseranno di quota, quindi queste nubi e si formeranno i primi cumuli, quindi nel corso della tarda mattinata, primo pomeriggio il cielo si farà più minaccioso e sono in arrivo delle piogge, credo intorno al tardo pomeriggio, insomma un po' prima del tramonto, avremo le prime piogge a partire da ovest, piogge che saranno più significative sulla parte occidentale della regione, meno invece su quella orientale dove arriveranno solo in forma piuttosto isolata. Si tratterà comunque su tutta la regione di piogge, un paio di ore, 2-3 ore di pioggia, non di più, poi in serata dovrebbe migliorare, a parte le zone tirreniche dove lì rimarrà, come sappiamo, quando le perturbazioni vengono da ovest, lì rimarrà un po' di più il peggioramento perché le correnti da ovest vanno a impattare contro le appennine e scaricano il quantitativo di pioggia maggiore con la loro umidità. Le temperature per domani, dicevo, minime in sensibile aumento, quindi cominciamo ad aumentare di diversi gradi, intorno, vedete, a potenza avremo intorno ai 10 gradi, 12 gradi a materia con massime che si abbasseranno per via dei venti, soprattutto e anche per la nuvolosità, 17 a potenza, 23 a materia, siamo ancora sopra le medie ma cominciamo a rientrare nella normalità. I venti da ovest e sud ovest in rinforzo sulle zone, a partire dalle zone più alte dell'Appennino, poi i venti aumenteranno anche nelle zone più basse come intensità e i mari risulteranno ancora calmi o quasi calmi in tendenza a poco mosso per lo ionio, scusate, per il tirreno per via di questi venti e quella perturbazione che arriva da ovest. Ci spostiamo alla domenica, quindi abbiamo visto il sabato un veloce peggioramento nel pomeriggio inizio sera, poi il miglioramento e questo miglioramento lo ritroveremo anche domenica, ci saranno degli strascichi della perturbazione, quella non ho indicato piogge a parte le zone della costa di Maratea, a parte le zone più meridionali della regione, non ci dovrebbero essere piogge significative, qualche pioggia occasionale, qualche rovescio veloce potrebbe esserci, non l'ho indicato perché in linea di massima il tempo sarà discreto con pochi nubi, un po' di addensamenti lungo le zone interne del Potentino, ma nulla di più, vedete la domenica rimane piuttosto gradevole, però non come i giorni scorsi perché avremo comunque vento piuttosto sostenuto e un ulteriore lieve calo. Vediamo per quanto riguarda le temperature della giornata di domenica, dicevo lieve calo sia delle minime che delle massime, 9 gradi a potenza alla minima 11 a Matera, per quanto riguarda le massime invece valori di 16 gradi a potenza e 21 gradi a Matera, quindi sono valori che riescono più o meno a avvicinarsi alle medie del periodo, anche se a fine ottobre dovrebbe fare un pochino più freddo, però ben vengono queste temperature. I venti sono da ovest, piuttosto sostenuti, quindi vedete due barrette, insomma venti intorno ai 30-35 km di media, con il marionio che rimane quasi calmo o calmo addirittura, mentre il tirreno si fa un pochino più movimentato, diventerà mosso, ma insomma nulla di più, perché poi questa perturbazione passa rapidamente, come abbiamo visto dalle previsioni, insomma alla fine lascerà pochi mm di pioggia se non limitato questa pioggia un po' più forte, limitate alle zone occidentali, per il resto un passaggio piuttosto rapido. Lunedì ci apprestiamo a vivere la prossima settimana con un'estrema variabilità, soprattutto nei primi giorni, lunedì in attesa di un'altra perturbazione, questa volta un po' più significativa. Vediamo le previsioni per lunedì, inizialmente cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità, quindi a partire da ovest rimane il sereno sulla zona orientale, sul materano in linea di massima, cominciano le piogge invece a interessare le zone tirreniche, le zone della Gonegrese. Questo è un sintomo diciamo di un peggioramento che poi avverrà il martedì, quando l'Italia sarà interessata da un'altra perturbazione e questa volta il sud dovrebbe essere colpito in modo un pochino più sensibile, nulla di più, non avremo piogge fortissime, però piogge sicuramente che lasceranno il segno, qualche millimetro in più rispetto a quelle di domani ci saranno, le temperature caleranno naturalmente. A questo punto non mi resta che farvi vedere il grafico riferito agli spaghetti che ci mostra proprio questa tendenza delle temperature a scendere, ecco la linea rossa è quella media degli ultimi 30 anni, siamo decisamente su valori come vi dicevo prima di 7-8 fino a 9 gradi al di sopra delle medie del periodo, temperature molto gradevoli che poi tra lunedì e martedì scenderanno su valori normali. Poi probabilmente avremo un'ulteriore diminuzione delle temperature tra mercoledì e giovedì quando le piogge potrebbero essere più dense, anche se dal punto di vista grafico delle piogge non sono tanto d'accordo perché passata la perturbazione di martedì non credo ci siano altre piogge, quindi lasciando stare il grafico vi dico che a parte come dicevo martedì che ci sarà una nuova perturbazione, probabilmente poi il resto della prossima settimana sarà di nuovo all'insegna dell'alta pressione, quindi tra fine ottobre e inizio novembre, quindi il periodo della festività dei Santi e della ricorrenza dei morti dovrebbe essere all'insegna del bel tempo nonostante i modelli indicano delle carte diverse con un peggioramento del freddo, io sono dell'avviso che a parte la perturbazione di martedì che porterà di nuovo piogge sulla Basilicata, da mercoledì giovedì si aprirà un periodo migliore con temperature nuovamente in aumento, vedremo se poi alla fine ne avrò ragione, per il resto non mi resta che augurarvi un buon weekend e arrivederci sulla nuova tibù. Grazie. 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 Grazie.